Restiamo in Abruzzo, la Guardia di Finanza spezza un vasto giro di droga nelle località Limitrofe a Pescara. In carcere finisce un giovane pregiudicato del posto. Un giovane pescarese è stato sorpreso dagli uomini della finanza e tratto in arresto per il possesso di oltre un chilo di hashish diviso in 12 pianetti nascosti nella legna all'interno del garage di casa. L'operazione, denominata dai militari Drag Market, è stata portata avanti nell'Interland del capoluogo abruzzese, finalizzata al contrasto del traffico degli stupefacenti. Detenzione illecita di droga ai fini di spaccio, il reato contestato dai finanzieri a carico del 24enne pregiudicato. Le manette ai polsi sono scattate nella vicina località di Cepagatti, in prossimità dell'abitazione di un altro spacciatore, a sua volta deferito all'autorità giudiziaria poche settimane prima per traffico di cocaina ed hashish. La droga scoperta avrebbe consentito il confezionamento di migliaia di dosi per un valore commerciale vicino ai 15.000 euro. Al momento, il giovane pusher si trova in cella in attesa dell'interrogatorio da parte dei magistrati.